Tra i clan mafiosi operanti sul Gargano, lo zoccolo duro è rappresentato dai cosiddetti montanari, in seno al quale un ruolo chiave sarebbe svolto la famiglia Libergolis di Monte Sant'Angelo, che ha catalizzato elementi vecchi e nuovi provenienti da diversi gruppi locali riuscendo a penetrare anche nel tessuto economico. Lo ribadisce l'ultima relazione semestrale della DIA parlando proprio della criminalità organizzata nel Foggiano. Nel territorio, dice ancora la DIA, la storica contrapposizione tra i Libergolis e gli ex Romito, si conferma ancora come valida l'attuale chiave di lettura per le evoluzioni strutturali dell'intero promontorio, sebbene debba tenersi conto di alcuni indicatori sintomatici degli equilibri a sette criminali. Tra questi sicuramente si annovera il ruolo di un elemento di raccordo tra il cano Romito e Radonado di Vieste, indagato in un'inchiesta del 24 aprile del 2021 che ha consentito di acclarare in maniera univoche e gravissime accuse nei confronti di un magistrato e il capoluogo pugliese. Il clane montanare risulta così allo Stato dotato di maggiore influenza nell'area garganica grazie ad un processo evolutivo generatosi non solo dalla centralità acquisita nel traffico di stupefacenti anche fuori regione, ma dalla capacità imprenditoriale finalizzata al controllo dei settori economici più importanti e remunerativi. Mimetizzando i caratteri più curenti ed efferati dall'organizzazione, la mafia garganica riesce così a penetrare nel tessuto socio-economico controllandone i settori più importanti.